Un appuntamento con lo Spalino.com, i nostri microfoni di Ravaglia, domani che Spezia ci dobbiamo attendere e che Spal troveremo? Sicuramente domani è una partita importantissima perché affrontiamo una squadra che è stata costruita per vincere, per fare bene, quindi domani noi dovremo stare molto attenti perché lo Spezia ha anche degli ottimi giocatori come Vannucchi e Saudati che sono arrivati da poco, quindi domani sarà una bellissima partita, noi comunque cercheremo di fare il risultato come sempre perché ne abbiamo le possibilità e la capacità. Oltre a questi giocatori che hai appena citato, temi di più infatti un Saudati, Colombo o un'eventuale giocata di Vannucchi che sappiamo abbastanza estro? No, come ho detto sono tutti e tre giocatori di grande qualità, i primi due che hanno assaggiato anche campionati più importanti, Colombo comunque è un giocatore che anche in Cia ha sempre fatto piazze importanti, quindi sarà una partita difficile ma allo stesso tempo bella da giocare perché sono quelle partite che non hai bisogno di preparare a livello psicologico perché già la partita in sé proprio ti porta ad arrivare alla domenica già a carico. Invece la SPAL come arriva ai giocatori? Abbiamo visto che c'è Zamboni, Fofanà che hanno dovuto abbandonare l'alimento, non stanno molto bene, giocherà Meloni sicuramente in attacco mentre in difesa sappiamo che domani proverà ancora Zamboni all'ultimo e anche te come stai visto che l'ultima settimana si è letto sui giornali che non stai perfettamente? Sicuramente domani come hai detto tu ci sarà Melo, poi dopo per quanto riguarda Zamboni tutta la settimana si è curato intensamente per esserci domenica poi chiaramente se non dovesse farci ci sono giocatori di altrettanto livello come Milan che si stanno allenando benissimo che sono pronti a scendere in campo senza problemi. Per quanto mi riguarda anch'io ho un po' di problemi così alla schiena però insomma con lo staff medico abbiamo deciso di fare ogni tanto qualche giorno di lavoro differenziato proprio per permettermi di arrivare alla domenica sano. Quindi diciamo che nel complesso la squadra la vedi bene dall'interno e possiamo continuare questo ruolino di marcia che stiamo tenendo queste ultime domeniche? Sì penso di sì, penso che la squadra anche durante la settimana per chi la viene a vedere vede che si allena sempre al 110%, ci sono tutti giocatori che veramente sono compatti verso un unico obiettivo quindi credo che domani daremo prova comunque di una buona gara, poi insomma sarà il campo a decidere. Ultima domanda, domani ritornano la curva ai tifosi, tu che sei il giocatore che praticamente li sentirà maggiormente dietro sei felice di questo? La squadra cosa ha pensato quando ho letto questa notizia? Per quanto mi riguarda sono molto felice perché i tifosi, gli ultra sono una parte importante proprio del gioco del calcio e la squadra comunque ha reagito benissimo perché li stavamo aspettando da tempo. Grazie Nicola Ravaglia. Grazie a tutti.